Ricognizione posta alluvione in provincia, Presidente Quarta Commissione Carta incontra Sindaca Petralito. I danni da maltempo toccano anche la zona sud della provincia di Siracusa. Dopo una ricognizione al territorio, il Presidente della Quarta Commissione Territorio e Ambiente Norevole Giuseppe Carta ha incontrato la Sindaca del Comune di Pacchino, Carmela Petralito. Il Comune ha registrato numerose problematiche in seguito alle piogge torrenziali dei giorni scorsi. Sono stati segnalati allagamenti nella zona San Giorgio, nel Porto Fossa, Marzamemi, nel canale delle Acque Bianche, zona nord-est e nelle aree IACP, con conseguente intasamento della Fogna. Martedì la Quarta Commissione Territorio e Ambiente afferma Norevole Carta avrà udienza con l'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò. Chiederemo di agire con cenerità nell'amplimento del canale di raccolta Acque Bianche e di finanziare le nuove condotte idriche per evitare nuovi allagamenti anche nelle zone di San Giorgio e di contrada lettiera. Inoltre chiederemo di rafforzare le azioni di pronto intervento con misure sistematiche di prevenzione per scongenare possibili danni futuri.